La YWNF Global Limited avrebbe adesso i soldi per arrivare al closing. In parole molto povere è ciò che si sta profilando nelle ultime ore sul fronte cessione al Palermo. L'indiscrezione rilanciata da Rete Palermo chiarirebbe come nelle ultime ore sia arrivato l'ok a livello bancario per portare avanti l'affare. Si tratta, nello specifico, delle rassicurazioni sul buon esito dei finanziamenti necessari. Queste sarebbero giunte attraverso apposite lettere fornite di indicazione delle modalità di rimborso del credito alle banche chiamate a derogare i prestiti per l'acquisto del club, un particolare tipo di garanzia bancaria alternativo alle più tipiche fideiussioni. Al tempo stesso le banche avrebbero accolto le richieste dando il via libera. Formalmente sarebbe già stato accordato l'impegno a rendere disponibili questi finanziamenti stabilendo tempistiche e tassi di interesse. Insomma, la società veicolo di Polba Caglini che dovrà controllare il 100% del Palermo avrebbe ora tutte le necessarie garanzie incluse quelle di assenza del rischio di insolvenza per la concessione e il mantenimento delle linee di credito da parte degli enti bancari britannici coinvolti. Passo successivo sarà adesso l'accettazione da parte di Zamparini delle condizioni prospettate dopo l'attuale due diligence volta al cosiddetto price aggiustamente, ossia alla revisione degli accordi finanziari dalla quale verrà fuori il prezzo finale di acquisto della società. Qualcosa meno di 80 milioni di euro, ossia quanto ha speso negli anni a Palermo da Morizio Zamparini per sua stessa ammissione. Cifra però tutta da verificare.